Ciao ragazzi, benvenuti a Non è Just Meca, è Marco qui e oggi dipinto una marina di marina di spazio blu. Nella mia quest'epoca epica per una team dimenticata che preparata di marina di spazio blu, tutta la size di un Primark, ho trovato un'altra bellissima scuola che mi dà anche la perfetta scuola per analizzare in profondo il bianco bianco. Sendo un guerriero dei passi, immagino il modello nel suo ambiente naturale caldo, contemplando un vasto flaco sotto un cielo blu infinito e un caldo caldo caldo. Come vedrai dopo, questo settore mentali gioca un grande ruolo nella scuola di ogni singolo colore e il suo posizionamento sulla figura, e anche nel tempo dell'applicazione. Voi sapete che ho sempre iniziato a dipinto con questo tipo di background visuale in mente e un sette di artworks di referenza sulla tavola per incontrare il modello al suo settore virtuale cinematografico. Ma dipintare bianco questo lavoro preparatorio è ancora più importante perché questo stracchio colore non ha il suo inizio e è fortemente influenzato dagli luci e le scuole. Una superficie bianco bianco riflessa diffusamente tutta la luce visibile che lo avviene, senza absorbere nulla. La riflessione del 100% di luce incendente in tutte le luci valli è una forma di riflessione uniforme. Significa che si tratta verso i tuoi occhi tutti i colori del settore visibile, rendendo bianco il tono possibile e un colore acromatico, un colore senza te. Guardate questo video qui per andare più profondamente sul tema di luci e pigmenti e come e perché si comportano diversamente. La semplice fisica di un te può essere davvero problematica per un pittatore, ma inoltre del fenomeno scientifico obiettivo, ciò che è davvero importante per noi è una percezione di umanizzata di bianco. Questo è un argomento che muove sull'arte, fisica, fisica umana e anche psicologia, ma per questa discussione possiamo solo dire che la visione del colore permette di distinguere diversi obiettivi per il loro colore e per fare così in ogni condizione la constanza di colore può mantenere la colore percezione di un obiettivo relativamente non cambiata, anche quando la immaginazione cambia in modo drammatico. Queste sono le mie foto di riferimento e puoi capire facilmente come non c'è un vero puro bianco in alcun di loro, ma per la magia della constanza di colore, i tuoi cervelli ancora leggono e percevano le armature come bianco. Le superfici bianco sono definiti principalmente dall'ambiente di colori e valori e questo è estremamente importante per creare realismo, contrasto e dramma, anche nel nostro medio di tridimensionale. Non dimenticate di abbiare e cliccare il bellissimo per sempre sapere cosa succede sul canale, e se vuoi supportare il mio lavoro controlla la mia pagina di Patreon e unire la comunità! Certo con la teoria, passiamo alla pratica. Qui puoi vedere il modello e la sua scala. sembra enorme vicino ad un primaris standard, ma è totalmente in linea con la dimensione di Primarchi di Forger, quindi sono ancora fiducioso al canone. Io normalmente inizio il lavoro da un valore medio dei toni che ho bisogno, dipendendo le ombre e le luci sul top di questa base per finalmente controllare la progressione dell'organizzazione del tono di base originale, ma dipendendo bianco preferisco avere i valori più luci impostati dall'inizio e lavorare principalmente sulle ombre che vanno sotto. Questo può significare di iniziare da un semplice, generale di bianco di bianco, o come in questo caso di un livello più complesso di toni, ma questo funziona comunque con l'ultimo tono di toni di toni. Voglio un finito estremamente matto per aiutare l'idea di ceramide raffa, quindi non usare colori o pelle di contrasto per impostare le luci basi e i loro scelte. Voglio anche un contrasto interno interno di temperatura tra le luci calme e le luci calme, quindi inizio il lavoro per primare il modello con Molotov petrol, un buon giro blu, ma non troppo scuro, con un pezzo di verde che supporta bene i toni di toni più calme. Questo è un modello molto specifico dipenduto con un lavoro molto specifico, come per qualsiasi coloro puoi dipendere bianco in diversi modi diversi e ogni dipendente ha il suo metodo per affrontare le difficoltà inerenti a questo colore. tendo ad adattare passaggi e tecniche all'interno e alle necessità specifici del modello che sto lavorando, cambiando l'approccio per produrre effetti diversi e sensazioni, ma questo processo può ancora dare una buona idea o la varietà di parametri che puoi controllare per dipendere la sua propria bianco. Bianco è la valutazione estremamente luce, quindi anche una valutazione medio come questo blu può produrre una quantità solida di contrasto e non hai bisogno di iniziare a lavorare da bianco, per esempio. Per un effetto non metallico bisogna sicuramente un estremamento più scuro, ma un materiale mattino dentro di una luce diffusata non produce quella stessa quantità di contrasto, quindi questa base è più che sufficiente. Inizio a costruire i toni calci usando ocaro molotov. Questo colore è molto mattino e opaco e queste funzioni possono rendere la finita del nuovo livello grano e con molti piccoli piccoli punti, dove l'interno del spray mette la base più scura. Per evitare questo problema aggiungo l'esercizio per aumentare la trasparenza della vernice, ma l'esercizio anche aumenta la consistenza e la tensione superficiale della vernice che era già perfetta direttamente dalla bottiglia. Quindi aggiungo un medio glace per mantenere la densità senza alterare troppo le altre proprietà visibili e fisiche. Sprayi questo tono con luce zenitale. L'obiettivo principale di questo livello è di impostare l'interno di contrasto iniziale di profondità tra recessi e dettagli. Grazie al piccolo piccolo di trasparenza creato dalla diluzione ho una transizione semplice tra le parti superiori che avranno una finita più opaca e solida giallo, e le parti basi che espressano toni verde, movendo dal blu del primo passo all'interno del tono giallo. Ho aumentato drasticamente la valutazione usando l'Ara Beige Molotov Molotov. Inoltre voglio vedere sul modello la finita molto matta e opaca di questa vernice, ma questi stili estremi sono un problema per un pennello semplice, quindi ho adattato la consistenza e la trasparenza ai miei necessità usando l'alberto e il medio. Questa volta ho sprayo da un angolo più sbarco, molto più vicino a un zenitale giallo, e ho applicato l'olio extra in punti precisi per creare una sensazione migliore dei volumi principali. immagino il modello guardando l'orizzo e facevo il sole, quindi voglio la mia luce principale nel centro della figura, un pochino dall'alberto, seguendo la direzione dell'alberto. Le forme cilindriche ideali di legge, torse e armature sono riuscite dalla luce principale con una linea nel medio, definendo le forme scuri più scuri e creando l'illusione di volumi più scaliati e più definiti. in volumi. Inoltre finisco con una trasparenza gentile senza visibili ma con un set di toni strano e opaico. finisco la progressione con un altro salto di valutazione usando l'alberto bianco bianco bianco. L'alberto bianco bianco è opaico ma abbastanza trasparente per essere usato direttamente dalla bottola. Potete vedere nei miei vecchi video come facilmente può coprire completamente nero con un paio di bianco 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 bianco. Qui uso un approccio reale zenitale con solo alcuni punti extra di luce estremamente nei diversi volumi. Normalmente non applico il bianco bianco in questa stagione iniziale perché dopo non ho il spazio virtuale per imparare le luce estremi e l'alberto bianco con l'alberto, ma in questo caso vedo che vorrei usare l'alberto bianco e l'alberto bianco per definire meglio i volumi e linei paneli e questi passi aumenteranno la valuta generale, portando la possibilità di applicare valori più alti e il bianco 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 con l'alberto. Ora posso andare alla paletta bianco per impostare tutti gli altri toni basi. È molto difficile incorporare l'alberto di altri colori saturati e contrastanti dentro del bianco bianco, quindi da ora ho semplicemente lavorato con l'alberto. Voglio concentrare questo video sul bianco bianco, ma posso ancora mostrare un paio di tratti extra per gli altri colori del bianco. Voglio un super vibrante e saturato rosso che fuori dalla base neutra. Uso il rosso chimera, il rosso più potente che ho nella mia collezione, e miglioro la sua vibrazione con il orancio florescento di Vallejo. I miei luci caldi e la camera non rendono giustizia alla saturazione di questo orancio caldo, ma puoi vedere l'effetto quando è mixato a rosso. Il rosso è un altro coloro che facilmente perde la sua identità con i risultati falsi, ma è più pericoloso con le scuole. Quindi quando ho bisogno di un rosso iconico e potente raro, tendo a impostare il tono che voglio dall'inizio, e principalmente funziona i colori. Un altro coloro interessante del schema è la base per la mia verità metallica. Mi mixo un necro-75 scale necrogold con il nuovo chimera lato turquoise, per creare la sensazione di un vecchio scuro di verdigrisi dentro dei dettagli. Questo creerà un tono di contrasto di temperatura, valore e finitura con i brilli bronzo metallici più caldi dei prossimi passaggi. Con l'esercizio basico in place, mi metto ad olio. Nel lavoro di olio è di aggiungere un delicato e sottile scuro tra i blocchi dell'armura. Ho usato un grigio di pannella, un tono di blu, molto simile a un grigio di space force e un po' di nero per creare un'esercizio consistente che applico così precisamente come posso solo nelle linee paneli per impostare la definizione estreme. La migliore cosa di utilizzare olio per questo passo e in un schema bianco in particolare è che non ottenete solo la linea scura ma la sensazione realistica di accumulato l'acqua e grigio di olio tra i pannelli perché stai applicando un pasto di olio intorno ai dettagli per reale. Per perfettare e pulire le linee, invece delle esponze di sponze e Q-tips, ho semplicemente usato il pennello. Pulire l'olio con un pennello sponso rende le linee sottili e più precise e la vernice resta più localizzata intorno ai dettagli, con meno impatto sulle circolazioni. Con tutti i bordi e le linee in place posso tornare alla paletta sottile per iniziare il processo di sconso. Qui puoi vedere la mia progressione tonale per i elementi ritori. Puoi vedere come ho usato un unico tono più leggero sul top del mio ritorno e quattro sconze sconze di sconso per reale definire le sconso e i volumi. Uso linee toni e punti di rosso e oranze per definire la teccia della fabbrica e trasparente per imparare le sconso e le sconso sconze. Aggiungo il bronzo caldo in due passi usando prima l'organizzazione originale direttamente dalla bottola. Poi, con un salto di valutazione forte usando un silvio leggero mixato con un inizio giallo. Con questo passaggio sconso il potente contrasto con il bronzo turquoise dark matto di base e e ho introdotto al schermo il classico blu sconso sconso, ma in un modo più subtile alternativo. Finalmente, qui puoi vedere i toni che ho plane di usare per rilassare la armatura blu. Normalmente mixo le colori che ho bisogno, iniziando da una base griglia e aggiungo le nuove nuove con gli altri colori che ho nella paletta, ma in questo modo è più facile visualizzare la scala completa di toni. Da top a bottom, ogni seczione dell'armatura falle in un blocco diverso di valori e toni. Ho toni relativamente scuri e caldi nelle parti basi e toni brillanti più caldi nelle parti più caldi. Per imparare i risultati realistiche e i risultati di occhi, devo usare il tono corretto per ogni seczione. Puoi vedere come l'armatura è lì da essere davvero bianca, semplicemente comparando il suo tono bianca sul tavolo. Il colore è quasi 100% lo stesso che vi vedi all'inizio del video, ma solo ora, con tutti gli altri elementi in place, puoi veramente vedere il tono vero, o meglio, il suo quasi look finale, relativo all'ultimo look delle altre parti. bianca. Il bianca ha un grande ruolo nei miei risultati. Ha un'ottima nota giallare, più ivorica che bianca, ma non importa, ancora si percepiscono come un bianca incredibilmente brillo nel contrasto con la base. Inizio dagli occhi per comprendere meglio il range di valori che voglio stabilire, raffinando il punto più lato prima di pure bianca. Inoltre, bianca è un colore triccio, non dal punto di vista delle pennellate, ma perché di questo look mai cambiato, sempre relativo e indipendente da qualcosa di altro. Ho usato il tono blu nei piedi e, anche se è estremamente lontano da essere bianca, è ancora percepito come bianca. L'altra parte della bocca è che se mettete il bianca di bianca in questa posizione sembra molto troppo brillante, completamente innaturale e fuori del posto. .. Age .. Il tono verde è perfetto per aiutare i elementi transizionali dove il blu e il docker beige sfruttano insieme all'inizio creando la sensazione verde. Anche nelle parti superiori dove avrò sicuramente qualche bianco di titanio, l'tono di ivorizzare una grande base progressiva, potente creare più complessi e le tessure di piccoli rilasciati. Solo alla fine del lavoro uso alcuni doti di bianco pura bianco per cercare l'esercizio. E lo uso più per dare l'idea di bordi davvero scarpi, riflessioni estremi e potenti doti di l'uomo spaventato. Grazie a tutti. E qui è il risultato finale. Quando capisci i principali principali e la natura relativa del comportamento di bianco di bianco, spaventare con i toni e colori diventa molto più facile. Nel pasto ciò che mi ha aiutato a capire come usare la bianco è immaginare il modello come un schizzo su bianco bianco. Puoi usare un po' del flusso naturale del bianco per la vostra avventura, ma bisogna aggiungere diverse toni, colori e valori per fare l'esercizio pulire dall'interno. Quindi, come sempre, la mia migliore suggestione è di studiare un tono di bianco belle arti e ingegnerire la loro soluzione. Se hai piaciuto questo video, diamo un like e iscrivetevi, ricordatevi che mi puoi chiedere qualunque con i commenti e puoi seguire i miei progetti durante la settimana usando uno dei miei sociali. E se vuoi supportare il canale e il mio lavoro, guardate la mia pagina di Patreon e partite la comunità o magari chiede per una commissione. Ci vediamo la prossima, ragazzi!